Nel fine settimana gli agenti del commissariato di Ischia guidati dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara con il supporto dell'unità cinofila antidroga dell'ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato servizi tesi all'applicazione delle normative anti-covid-19 tra i comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Nel corso dell'attività sono state identificate 45 persone di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli e contestate due violazioni al codice della strada per divieto di sorpasso e per violazione della segnaletica stradale. Ma l'attività ovviamente è andata oltre gli abituali posti di controllo, infatti i poliziotti hanno effettuato un controllo in via nuova dei Conti ad Ischia presso l'abitazione di un uomo dove grazie al fiuto del cane Kira hanno rinvenuto occultato in una cassettina riposta in un cassetto della camera da letto un pezzo di hashish di circa 8 grammi ed un coltello della lunghezza di 29 centimetri. Un 24enne ischitano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Anche i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Angelo Pio Mitrioni col supporto dei militari in servizio presso le stazioni dislocate sul territorio hanno effettuato una serie di controlli che per ovvi motivi sono rafforzati nel fine settimana. I militari della locale compagnia hanno identificato 93 persone e sanzionato 9 cittadini per inosservanza delle normative anticontagio, non indossavano la prevista mascherina o erano in strada senza alcun valido motivo dopo le 22. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo primo fine settimana dopo il ritorno della campagna in zona rossa il dispositivo dei controlli anche in questo caso soprattutto sulle misure di contenimento anti-covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate tra Napoli e provincia 1542 persone e attività commerciali 127 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato come di consueto soprattutto Napoli città ma non solo tra Napoli, Pompei e Barano Dischi anche grazie a segnalazioni di cittadini pervenute alla sala operativa nel comando provinciale tramite il numero di pubblica utilità 117 sono stati sanzionati internet point e sale scommesse in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti.